Bernard Otto, l'autore del gol del pareggio, intanto lo ringraziamo per essere arrivato in postazione. Sorrentino ti ha negato un gol che sembrava fatto, pronti via, poi però la gioia è stata grande sotto i tifosi. Sì, sì, al primo tempo mi ha fatto una bella parata, poi però al secondo tempo ci ho creduto fino alla fine e ho trovato il gol che serve per la mia squadra, per un pareggio importantissimo in un campo difficilissimo. Ci vuoi raccontare un po' l'azione del gol? No, niente, l'azione del gol è praticamente palla e mezzo e Lombardo la mette dietro, io arrivo col sinistro sotto la traversa. È stato un bel gol, ma sono contento sia per me che per la squadra, perché abbiamo fatto una partita per me importante, soprattutto nel secondo tempo, e abbiamo raggiunto un pareggio importantissimo contro una squadra forte. Qual è stata secondo te la chiave con la quale avete ribaltato un po' l'inerzia del match? Perché nel primo tempo, a parte l'occasione tua, il Pescara vi ha messo in difficoltà. Nel secondo tempo, soprattutto nell'ultima mezz'ora, siete usciti bene. Sì, come ho detto prima, nel primo tempo abbiamo fatto un po' fatica, però poi nei spiegatoi ci siamo parlati anche con il mister, abbiamo trovato la quadratura giusta nel secondo. Cosa avete cambiato e cosa sbagliavate? Ma non è che abbiamo cambiato chissà che, abbiamo cambiato atteggiamento soprattutto e poi ci siamo alzati un po' di più con il baricentro. E quindi questo poi comporta un pressing più importante, che ci permette poi di giocare come sappiamo, perché comunque siamo una squadra che ha un'identità importante quando ha la palla e sa quello che deve fare. Ci mancava solo un po' di... nel primo tempo, ripeto, ci siamo abbassati tante e quindi non riuscivamo poi a imporre il nostro gioco. Invece nel secondo, alzando il Polbaricentro, siamo riusciti a fare quello che sappiamo fare in tutte le partite.